Buongiorno a tutti, sono Pietro Gercioni, Export Manager per Proel Italia. Siamo qui all'ISE, una fiera per noi importantissima del settore System Integrator. Presentiamo in anteprima il nuovo sistema Line Array Axiom 2010. Oltre al sistema Axiom abbiamo una rappresentazione di quelli che sono i prodotti per installazione nel settore. Abbiamo una serie di speaker segna Exios, oltre a prodotti della serie Neos, sono una serie di speaker professionali che è possibile controllare con un software remoto tramite un computer. Inoltre presentiamo qui il nostro label Screen Light, in anteprima mondiale, che viene distribuito in Italia dalla nostra sister company VR Media e all'estero con il nostro sales network Proel.